panettone o pandoro è sbagliato è fatta apposta va bene pandoro o panettone questo è il dilemma di tutti gli anni ma non il nostro perché qui in questi due magnifici esemplari c'è solo robusto e tanto cuore e tanto amore tutto prodotto italiano venite vicino e vi faccio scoprire